abbiamo iniziato già a burlare no no calma 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 perché questa multi andrà molto meglio quindi andiamo a pity 20 l'avevo detto andava molto meglio l'avevo detto dai l'avevo detto violet l'avevo detto l'avevo detto l'avevo detto dovevi dare fiducia ti avevo detto che questa multi va molto meglio infatti guarda questo è pt 11 12 13 pt 13 violet basta chiedere pt 13 raga facile lineare non c'era nemmeno bisogno di chiedere cose basta far pullare me e questo è quello che succede vai valette ridammi il via altra singola con il potere di cinnamorol vai con il potere della borraccina di cinnamorol questa sarà la singola del 5 stelle vai ok ok ci siamo violette lo skyward arp che ti mancava non ci credo non ci credo lo skyward arp che ti mancava che volevi lo voleva lo voleva lo voleva aveva detto skyward arp o amos boh guardate contenta siiii grazie signore siiii 50 dai ragam oggi è l'early day va bene va bene qualsiasi caso france anche se dovesse andare male l'abbiamo trovata molto prima del pt dai 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 speriamo sia lei ma se no comunque ce ne freghiamo a sto giro dai dai siamo a 50 questo è 51 pt 51 52 basta c'ha scassato c'ha scassato cazzo basta 53 54 55 siiii pt 55 siiii 50 e 50 vinto ragazzi queste mani trasudano poteri magici o la seconda shiori o stiamo cercando di perdere il 50 e 50 per avere garantita arlecchino quindi ci va bene sia che troviamo la c1 sia che abbiamo arlecchino garantita in questo momento quindi stiamo pullando più per il meme che per altro furina grazie per il follow e andrea ciao buon pomeriggio no raga sbagliato per forza per forza cioè non non c'è verso 88 eh veramente io non ci credo gli mancava cici non ce l'aveva non ce l'aveva siiii personaggio nuovo è garantito per arlecchino raga garantito per arlecchino allora e intanto c'è non era scontato ho visto l'altro banner cosa sei cosa sei chi sei goku allora andiamo non lo sai 5 76 77 78 78 bellissima la lancia di osso celeste skyward spine dite la verità la volevate voi dite la verità la volevate voi ultima early manco il tempo di capire manco il tempo di capire mi sono spaventata tantissimo non me l'aspettavo non me l'aspettavo cosa aveva detto delle pull io vorrei jean e non vorrei il rosso e non vorrei ciciliati ce l'ho c1 c1 e c0 questa è colpa di eliana perché eliana ha scritto in chat che c'è che ha scritto l'ultimo messaggio che ho visto in chat per l'italia era molto è stato quello di eliana che ha scritto stavo per bandare hammer è colpa di eliana 80 5 stelle raggio dorato ce l'abbiamo allora 71 72 73 buono una pull 74 75 buono 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 bu eccola eccola 79 raga eccoci mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia meno male meno male non è mia perché sennò dovevo bildardi look 71 chiamato da melody ci siamo vediamo melody brava melody sì sì brava melody l'ha chiamata giusta bt 20 early dai un early oggi un early da qualche parte ce lo meritiamo veniamo vediamo dai intanto prima molti speriamo gli escano quelli che ha già ci sei così ci togliamo il pensiero diamo stellina dai ottimo sicuramente era proprio tra tutte le cose di questo banner quella che più volevi lo percepisco però magari molti le armi molti fortunata basta per te sta pala stella mi ammazza raga io vi giuro io stella l'amo ho sempre amata il suo modo di esprimersi ok la pala eh sì eliana qui si va a pt30 quindi qui c'è il pt22 pt30 oh finalmente non importa che cosa c'è va bene lo stesso oh ora si ragiona ora si ragiona stella allora abbiamo detto vogliamo ovviamente la nostra bellissima sarta se non esce la sarta abbiamo detto mona o tignari giusto questo dovrebbe essere il 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 toto si fa il segno della croce stella va bene no sta calma sta calma ricordati stella che siamo a pt basso quindi ce l'abbiamo garantita poi e ci arriviamo probabilmente cioè ci arriviamo senza probabilmente vado eh quindi qua la prendiamo ce l'hai sappi che ce l'hai allora dimmi te quando andare questa è pt21 22 23 24 va benissimo let's go bello sto lag 25 avesse lagato prima era meglio però ce lo facciamo andare bene 75 76 77 eccola qui eccola bella proprio bello con questo nastro troppo daki di demon slayer daki di demon slayer totale 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 ditemi se non è identico sto nastro a quello di daki di demon slayer e e oddio 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 allora allora ha semi lagato io ricordo che sunset ha delle carenze nell'account però perché qualche personaggio cinque stelle sunset non lo ha però però teoricamente dovrebbe essere nuovo teoricamente dovrebbe essere nuovo che cos'è che non hai sunset perché ha detto che vorrebbe se non troviamo o cici o tignari ha detto se perdesse non so se perché le mancano ha semi lagato raga semi lagato quindi teoricamente è un personaggio nuovo quattro stelle li ha tutti quindi è un cinque stelle nuovo ci c'è ah li mancano proprio ci c'è tignari ti mancano proprio ah c'è troppa scelta allora allora c'è troppa scelta manca anche teia ah no raga manca anche teia vabbè dai questo era 75 non lo volevo sapere che mancava anche teia vabbè 75 76 appunto l'avevo detto era nuovo però lo voleva tignari mi piace perciò tro faro c'è l'ario ha l'ario e l'ario è l'ario Grazie a tutti.